Tutte le bestemmie che ho tirato nelle live della carriera con l'Atalanta, le vorrei tirare oggi, adesso in questo video, perché non è possibile, non è possibile, non è possibile, non è possibile. Io ho portato l'Atalanta agli ottavi di finale contro il Real Madrid, ho passato il girone, sono stato uno, l'Atalanta in questa Champions è stata una delle migliori squadre, a giocare bel calcio, a fare tanti punti, e sono uscito solo di due reti di differenza con il Real Madrid. Stiamo scherzando, stiamo scherzando, forse anche tre, ma comunque va bene la posizione in campionato, i 32 punti che poi sarebbero mancati sei partite, io non capisco l'esonero, l'esonero di FIFA 20. Vi dovete vergognare, voi, 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 voi non riesco neanche a parlare perché sono nervoso, mi avete mandato a Lecce, e io ve lo giuro su mia mamma, ve lo giuro su mio padre, ve lo giuro su mio fratello, su mio cane, su tutta la mia famiglia, che io riporterò con il Lecce, va bene, in Serie B, e dalla Serie B, mi qualificherò in Serie A, e da lì non cambierò più squadra, e da lì mi rifarò, partendo ovviamente dalla Serie B, per poi salire in Serie A. Io non capisco come l'Atalanta mi abbia sottovalutato, come abbia sottovalutato le mie prestazioni, che avevo quando allenavo l'Atalanta, voi mi avete lasciato fuori, e io ve la farò pagare, a tutti quanti, a tutti quanti. Se volete la seconda parte della stagione, la prima che sarebbe con il Lecce, voglio 60 like al video che vi lascio qui sotto, nelle info, in descrizione, anche nei commenti, perché questa è una roba vergognosa, è una roba vergognosa, lo giuro su mia mamma, lo giuro sulla mia famiglia, sulla mia squadra del cuore, che io il Lecce lo porterò dove merita di stare, dalla Serie B risalirò in Serie A, ve lo prometto e ve lo giuro, il Lecce sarà in Serie A, ve lo dice l'interista pazzo, il sottoscritto. Non è possibile, l'Atalanta mi ha sottovalutato, l'Atalanta mi ha sottovalutato. Io mi rifarò, lo giuro che mi rifarò, sono incazzato, sono incazzato, sono incazzato. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un mi piace, commentate, condividete, un bacio a tutti e forza Lecce, forza Lecce nel cuore. Ciao ragazzi, Atalanta, Atalanta, vattene a fare in culo, vattene a fare in culo, io ti batterò in Serie A, io ti batterò, io ci sarò in Serie A l'anno prossimo, ci sarò.